La chiamano invasione della Pedemontana. Sono i proprietari dei terreni di via Prati, a Trevignano, che ieri mattina si sono trovati le ruspe tra il grano. Le sono entrate in casa? No, non mi hanno detto niente. Sono entrato e hanno distrutto il raccolto e vediamo cosa hanno fatto. Lei ha qualche contratto, qualche contatto, qualcosa? No, no. Proprietari che si sono messi davanti alle ruspe e hanno chiamato le forze dell'ordine, alle quali è subito apparsa evidente la mancanza di qualsiasi messa in sicurezza del cantiere. Così le macchine sono tornate indietro in attesa di una decisione che verrà presa a Roma. Il 20 maggio eravamo al Tarlazio e abbiamo discusso la legittimità della Pedemontana e siamo in attesa ormai imminente della pubblicazione di questa sentenza. Che dovrebbe arrivare il 20 giugno? Dopo un mesetto circa, sì. Perciò il 20 giugno. Perché è così importante questa sentenza? Perché si riconferma, è cosa che noi speriamo, l'illegittimità come le precedenti sentenze e le ordinanze, questa Pedemontana è illegittima di essere chiusa immediatamente. Un'opera che divide la popolazione, tra chi la aspetta da oltre 40 anni e chi la considera inutile, ora che Manifattura e Capannoni non abitano più da queste parti. Un dibattito che sicuramente tornerà anche in regione, visto che tra i manifestanti, con tanto di stivali, c'era anche un neoconsigliere. Io sono qui per dare solidarietà al proprietario e per dire che appena verrà convocata la seconda commissione politica del territorio, noi chiederemo conto di questa grande opera, se dal punto di vista finanziario, se nel merito, nell'utilità di questa opera. Ma al di là delle scelte politiche, per chi è toccato nei propri averi, quello che dà più fastidio, dicevano oggi i manifestanti, è il modo in cui avanza l'opera, senza minimamente tenere conto dei cittadini. Entrano nei campi senza aver firmato o accordo bonari o senza che ci sia un decreto di esproprio, quindi un decreto dove depositano i soldi. Entrano senza avvertire, spianano le culture e non hanno un minimo rispetto delle persone. Voi cosa chiedete allora al commissario? No, noi vogliamo i nostri soldi. Se loro vengono a casa mia, devono dare i soldi prima di entrare.